Buonasera, ben trovati dunque a un primo maggio tra Orta Nova e Cerignola, nelle terre di Giuseppe di Vittorio, al padre del sindacalismo italiano CGL e Cisle Will hanno dedicato la festa dei lavoratori. Viva il primo maggio! Viva i lavoratori! Viva Giuseppe di Vittorio! CGL e Cisle Will sfilano a Cerignola, nella città del simbolo del sindacalismo italiano. Primo maggio nel nome di Giuseppe di Vittorio, originario della città ofantina, padre costituente, giovanissimo, bracciante nei campi del tavoliere più di un secolo fa. Nelle campagne di Orta Nova, di Vittorio visse sulla propria pelle la dura vita dei lavoratori della terra. Ogni anno la CGL lo ricorda Masseria Cirillo, primo luogo di lavoro del futuro leader sindacale. È necessario ripartire dal lavoro dei giovani e delle donne, sfruttando i fondi del PNRR. La Puglia non è una regione per giovani e non è una regione per donne rispetto alle tematiche del lavoro. I dati occupazionali lo dimostrano in maniera chiara e evidente. Poi abbiamo un sistema produttivo che paga il prezzo della mancanza di visione, soprattutto delle imprese. Pensa a tutta la transizione energetica, a tutto il prezzo dell'automotive e anche alla mancanza di visione rispetto anche alle prospettive, diciamo, sul piano turistico, sul piano anche dell'agricoltura. Purtroppo certifichiamo ancora dati nei quali è il caporalato che determina i costi di mercato. Nelle fabbriche le tutele dei lavoratori a che punto sono? Abbiamo rinnovato il contratto nazionale. Senza il contratto nazionale in questo momento noi avremmo un impatto molto negativo sul salario da parte dell'inflazione. In parte il nostro contratto è una tutela, ma ora tocca al governo. Il governo deve detassare gli aumenti contrattuali in paga base e a pagare siano i ricchi, perché i poveri e quelli che lavorano hanno già pagato abbastanza.